La grande sofferenza scaturì una soluzione. Comunità. Iniettato. Luoghi idilliaci in cui il disordine divenne armonico. Tu sai farli volare? Naturalmente. E voli fino al confine? Ah, sì. Che cosa c'è oltre? Non lo so. Non ci è permesso di volare oltre. Andiamoci. È contro il regolamento. Si chiamano Libri. Salve. Mi chiamo... Lo so chi sei. Tu chi sei? Il donatore. Quando agli anziani serve una guida io fornisco la saggezza usando i ricordi del passato. Il nostro mondo era diverso. C'era di più. Di più? Molto di più. Rosso. Rivedrai tutti col tempo i colori e le differenze. Il nostro popolo scelse di fare a meno delle emozioni. A questo servono le iniezioni del mattino. Quando la gente ha la libertà di scegliere, fa scelte sbagliate. Domattina salta l'iniezione. Io lo sto facendo da me. Che cosa provi? Di solito non è così. Mi sorprende che non ti preoccupi di più per lui. Io lo farei. Fammi vedere l'attività di Jonas. È curioso. Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro. Tra il modo in cui le cose sembrano e quello in cui le cose sono, c'è grande differenza. Guarda. È mio padre. Non è possibile per me prepararti alla verità. Lo ha ucciso. Sia i giovani che i vecchi vengono uccisi. È per il bene di tutti noi. Ci sono cose che tu non sai. Mi stai spaventando. È meglio che torni al tuo nucleo familiare. Quella non è la mia famiglia. E neanche la tua. Jonas è diventato pericoloso. Io so che c'è qualcosa di più. Qualcosa che ci è stato rubato. Stai comoda? Jonas, ci deve essere un modo di uscirne. Tu puoi fermare tutto questo. Puoi cambiare le cose. Voglio che tu lo combatta. E poi voglio che lo elimini. E poi voglio che lo rimini.